L'attività è quella costante di controllo economico del territorio che i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce portano avanti contro gli illeciti in materia di spesa pubblica. Dall'inizio dell'anno, quindi in meno di due mesi, le fiamme gialle hanno già individuato 17 persone che avrebbero illegittimamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. I percettori indebiti del sussidio sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce e segnalati alla competente direzione provinciale dell'Inps per la revoca e la sospensione del beneficio e anche per il recupero delle somme già erogate che ammontano a oltre 170.000 euro. Nello stesso periodo i finanzieri hanno indirizzato una mirata azione di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso. Gli interventi ispettivi sono stati condotti trasversalmente nei confronti di diverse tipologie di attività commerciali e hanno consentito di rilevare l'impiego di 37 lavoratori in nero e 8 irregolari, alcuni a loro volta risultati essere pure percettori del reddito di cittadinanza, che sono stati conseguentemente segnalati agli uffici preposti. Contestualmente 11 datori di lavoro sono stati verbalizzati e segnalati alle autorità. I controlli sono stati eseguiti dai reparti del corpo territorialmente competenti nei comuni di Alliste, Barbarano, Casarano, Corsano, Galatone, Giordignano, Lecce, Maglie, Nardò, Poggiardo, Porto Cesario, Presiccia, Quarica, Tricase e Ugento.